Grazie a tutti Che naturalmente presenzerà alla cerimonia di premiazione Siamo pronti ad accogliere, siamo pronti ad accogliere il gran finale Sesta sesta con le maglie dell'Unione Ciclistica Poligno a prendersi la vittoria E Nicolo Cardinali, Nicolo Cardinali Unione Ciclistica Poligno fa su Applaudiamoli tutti questi ragazzi splendidi protagonisti Arriva Alessio Fantalla, campione Intanto chiedo a Paolo Marinelli se è stato predisposto il controllo rapporti Quindi subito dopo la nostra postazione i primi sette al controllo rapporti Dopodiché i primi tre sono attivano come miglior risultato Ho ottenuto il secondo posto di Alpa Triatica Il secondo a Fano Quindi due volte secondo Il terzo di Morro va a tornare Prediti 57-30-52 55-72 Riprendo qui nono Dunque i primi sette Ormai a Bordia Ma non si è che non toccano Posso pregare la sera? Ogni due li potrebbero essere toccato Chi ci dovrà? Quattro offerto dal ristorante La Camilluccia L'olio offerto da Muselli e Cuzzini di Recanati E il vino offerto dalla società organizzatrice Roberto Maschi e Gianni Grazie 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 Grazie